La mia squadra ha proprio le caratteristiche di quello che non molla mai, un po' anche rompiscatole, no? Per gli avversari, ovviamente. Ogni tanto pure con i compagni di squadra, perché ha il suo caratterino. Quando senti i paragoni, Barella-Matteos, che fai? Un po' un azzardo? Oppure ci può stare, Jürgen? Ma no, ci può stare. È carino, no? Matteos era un tradizionale numero 8, no? Andava su, 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 giù con un'energia, si è mai stancato e poi ha avuto uno scatto incredibile, un tiro incredibile e anche Nicolo fa queste cose, no? E dappertutto, a sinistra, a destra, poi nell'area di rigore, perché vuole fare anche gol e c'è un pochino di Matteos, per quello ci può stare. Questo paragone. Invece il tuo ruolo oggi nell'Inter ce l'ha un giovanotto francese, di cui tu conosci bene il padre, perché hai giocato insieme al Turan Padre. C'è, intanto come vedi lui, come vedi Marcus, poi c'è qualche cosa di Lilian, come l'hai conosciuto tu, in Marcus? Io credo che ci sia sempre qualcosa del padre e non del figlio, anche della mamma, ovviamente, nel figlio e nella figlia. È anche giusto così. Ovviamente, quando parliamo di Lilian, io ho giocato con lui per due anni al Monaco, al principale di Monaco, sotto Arsene Wenger, e l'ho visto molto giovane, con Yuri Giocaef, con Emmanuel Petit, questi ragazzi non erano ancora nella nazionale francese, che un paio di anni dopo hanno vinto i mondiali in 98. Marcus ovviamente è l'attaccante, uno che vuole fare gol, il papà era difensore centrale, che ha fatto una carriera incredibile. Però è uno che è sempre con i piedi sulla terra, vuole dare tutto il suo compito alla squadra, e per quello ce lo vedo anche bene insieme a Martínez, a Lautaro, come coppia, oppure magari quando si occupano magari in tre davanti, è proprio un misto ideale. Hai citato Lautaro. Secondo te è arrivato al livello dei league d'Europa, nel suo ruolo, ti parla di Mbappé, di Keane, Lewandowski, i suoi nomi, di un certo rilievo. È lì, Lautaro? È campione del mondo. È giocatore. È arrivato nei league. Per giocatori come lui, Mbappé, questi giocatori o attaccanti eccezionali, ci vogliono un paio di titoli. È lì, con la Coppa del Mondo poi in Qatar, ha vissuto questo momento indimenticabile per lui, però ha anche poi preso un po' più responsabilità, quando è tornato poi all'Inter, di uscire un po' più da se stesso. Più leader. Sì, è diventato molto più leader e poi ovviamente è diventato poi capitano. E questo ruolo come capitano è un ruolo molto di responsabilità, devi essere più sincero, devi essere più focussato solo su quel lavoro. E lo fa bene, lo farà veramente bene. Allora, negli ultimi due o tre anni è cresciuto molto.